Se c'è una cosa che mi irrita profondamente, sentire parlare i politici e riempirsi la bocca con la parola crescita, come se la crescita fosse la panacea per tutti i mali. Il pianeta Terra è un pianeta finito, ha una circonferenza di soli 40.000 km circa. Non ci può essere una crescita infinita sopra un pianeta che è finita, mi sembra una logica da quattro soldi, ma com'è che non gli entra in testa che la soluzione ai problemi del mondo non è la crescita, ma è la decrescita. Dobbiamo tutti quanti fare un passo indietro, anzi probabilmente molti più di uno. Cosa ne sarà del futuro dipende solo da noi e da quanto decresceremo felicemente. Grazie. 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 Grazie.